Oh Michele, adesso ti vieni con Michele che vado a fare un video di quei ringraziamenti troppo giusti. Come hai chiesto di ringraziare? Beh, innanzitutto bisogna che ringrazii tutti i miei fan, tutti quei che mi scrive, che mi telefona, che mi domande autografi. Voglio stringermi la mano perché è solo grazie a loro che sono qui che sono. Il Bottee da Legnago, Chico Più, miriete di altri fan. Voi di Bovolon? Voi di Bovolon, va che vuoi. E il Bottee da Borgo Venezia che io voglio sempre che vaga la bella pira. Vieni qua, meglio di uscite, se sentiamo a tutti, bevamo un casino di bere e vanno con tutti. E dopo un'altra roba. Bella Luzi. Cazzo siete, che dice assurdo. Cioè è assurdo, ehi, quei fan fanatici no? E dopo ho paura di veramente provare a guardare che fine che ha fatto, che ne so, Kennedy. Albano. Albano. John Lennon. Anche Homer Simpson. Cioè non lo so. Comunque, è qui che ti manda i bottiglioni di vino? Eh, amico, ho anche paura di quello. E' buono tutti quanti, perchè io bevo, se c'è una roba che non sono buono di fare quella. Però, Bottee, deve essere regolata e non posso andare avanti. Mi tocca in casa. E dopo un'altra roba, Bottee. Essendo questo un video di ringraziamento, e vi ringrazio un'altra volta ancora. Quando fai un lavoro, bisogna che mi scrivivi, bisogna che commenti, perchè io vivo su queste robe. Che c'è gente che non commenta neanche? Che c'è gente che non commenta neanche? Io non posso neanche... Cioè... Mi stavo male, mi bisogna dare dei riscontri su qualche cosa. Nel video dell'operario Luigi, parli di quanti commenti che ha. Ah, che ne era, sì. Sì, però... Quei che non mi ha commentato. Ne sono stati tanti, perchè ho migliaia di contatti. E' vero, è vero anche questo. E quindi l'invito l'è? L'invito è a fare commenti e più non posso. Grazie. Soprattutto i Bottee dell'Egnago, diga. Soprattutto i Bottee dell'Egnago. E a Bea Luz, l'ultimo messaggio? Fatti scoprire. Perché te si? Assurda!